sono successo una quantità di cose ti è espresso il computer mi hanno messo in quarantena questo è per fare un quadro appena ovviamente la quarantena è iniziata mi hanno messo in quarantena la mezza giornata prima che iniziassero le ferie e vabbè sono risultato negativo quindi tiena non so cosa succederà perché forse devo fare una quarantena più lunga forse no e quindi che cosa ti posso dire come va male va malissimo perché va male perché intanto sono chiuso in casa perché in generale mi sembra che le cose a livello mondo non stiano andando un granché non so se hai sentito che c'è stata una grossa esplosione in Libra da un proprio oggi pomeriggio i miei genitori stavano guardando il giornale poco un momento fa e abbiamo commentato sulla questione però solo che tipo io ok ho intravisto tipo io non so bene cosa sia successo ma c'è stata un'enorme esplosione a Bay e a parte questo ci sono i soliti insomma le guerre il terzo mondo il primo mondo e in generale il capitalismo che continuano a perversare e a fare ciò che fa sempre cioè rompere i coglioni e finire di essere un'espressione naturale dell'uomo oh ma cioè cioè la proprietà privata è una cosa di natura cioè dai su naturalmente naturalmente cioè è una cosa naturale guarda la proprietà privata lascia così dagli alberi eh certo infatti non vedi tutti questi animali che mettono i loro piccoli recinti eh cioè tra l'altro anche il mio corpo è una proprietà privata e by default i miei fili quindi li porterò che ne so io farli lavorare ma naturalmente ma soprattutto il tuo corpo è una proprietà privata in virtù del fatto che tu così possa venderla e quello che lo compra non può non chiamarsi schiavista anche se nei fatti io eh una soluzione per risanare i debiti è anche vendere i propri organi ma naturalmente oppure come faceva in Sina fino agli anni 70 ma penso anche adesso vendere il sangue ah vendere il sangue mi sa che è una cosa che capita ancora tipo negli Stati Uniti sì anche in Europa qualche parte sai in Grecia in Grecia che è perché si possa vendere il sangue comunque ma non sono certo di questo quindi lo dico con il beneficio del dubbio detto questo e di che cos'altro beh anche la condizione del lavoro in generale mi sembra che sia sempre al top in queste latitudini giusto? sì ma in questi giorni ho la netta impressione che devo dare ragione a un titolo degli articoli di Galimberti ok bene e Galimberti è quel tipo di figura dalla quale io sinceramente non sono d'accordo delle sue osservazioni ok ma rispetto rispetto il suo intelletto rispetto la sua conoscenza anche se non sono d'accordo perché almeno posso dialogare e almeno vedo che lui non dice delle minchiate però non ho letto il suo articolo però il suo articolo era molto mi sa creare il titolo una citazione di un articolo in cui lui diceva guarda dopo la pandemia se torneremo alla normalità sì e quello che vedo è semplicemente un tornare alla normalità che era il problema by default che ci ha messo in questa situazione sì è esattamente quello il punto e vedo solamente questa esasperazione continua di ok vogliamo tornare alla normalità vogliamo goderci la vita in maniera edonistica o di lavorare fino a morire esatto come prima ma naturalmente perché il senso del recupero della normalità è potersi ancora ammalare di lavoro perché finito il virus bisogna ammalarsi di qualcosa e ammalarsi di lavoro è forse un po' la derivazione naturale di quello che andiamo a fare ogni santo giorno fino al nulla perché non c'è prima della pensione ma quindi è così che cosa non lo so è perché in queste tre settimane sono successe tante cose sì che rimane difficile trovare un argomento e dire guarda è successo questo guarda è successo quals'altro però tipo penso che una delle cose che è capitata alla quale mi ha più chiamato l'attenzione è stata la lettera aperta della Harper Magazine e non so se hai beccato questo sì come no la cosa più interessante di tutta quella storia è sottolineo se una persona non è ingaggiata nel mondo come dire degli intellettuali della sfera americana e di non conoscere chi sta dicendo cosa o quale rivista dice cose e così via rimane sempre difficile da capire bene la situazione e la situazione dell' Harper Magazine è risultata tipo una sorta di shitstorm post pubblicazione la quale sono state delle critiche poi guardano anche sono state delle problematiche riguardo ai firmatari della lettera e di come è stata organizzata la lettera però la lettera in sé era in poche parole e le notizie ci sono uscite qui in Italia tipo erano 150 intellettuali hanno firmato una lettera per il dibattito di parola no per la libertà di parola il free speech e solitamente nelle notizie tu vedevi 4 intellettuali 4 foto di 4 intellettuali molto preeminenti ognuno a maniera sua e se conosci un po' ognuno di loro fai questa cosa ha ragione ha un senso che questa gente abbia firmato una lettera e iniziamo iniziamo tipo non dal contenuto della lettera perché il contenuto della lettera per chi vuole consultare puoi andare online è gratis può guardare quello che diceva dalla lettera e la lettera essenzialmente è la cosa più sopra le mure che esiste sulla faccia della terra la quale loro dicono guarda noi siamo a favore del diritto di parola perché degli editori in questi momenti sono licenziati però loro non è che fanno nominazione di casi esemplari di cose di casi in cui il diritto di parola di accademici insegnanti o giornalisti vengono messi a scacco quindi questo ha portato poi ai firmatari che sono i 4 più proeminenti sono non Chomsky per chi non conosce la figura di noi è un Chomsky tipo Chomsky ha contribuito in due grandi maniere all'umanità una è la sua teoria del linguaggio che è un comportamento sbagliato io sono d'accordo con te tuttavia è l'universo mondo che è l'universo mondo sì è una teoria sbagliata io sono d'accordo con te non aderisco alla teoria del linguaggio di Chomsky però accademicamente la rispetto io rispetto io no ma è solo storia dell'accademia ora è una teoria vecchia come dire quello lì che non so la critica più facile da fare alla teoria di Chomsky e scusa se pare un po' così però è che è un creazionismo del linguaggio poi non andiamo sui dettagli andiamo anche sull'altra cosa su cui Chomsky ha collaborato Chomsky ha scritto molti libri di politica tutti ma ordine sì sì e lui ha scritto parecchia roba perché lui tra l'altro è anarchico sì ma è un anarchico è un anarcho all'americane è un libertario socialista sì appunto cioè anche lì io sinceramente non sono d'accordo su tutto quello che lui dice no molte volte le sue critiche sono sensate con il riguardo l'imperialismo degli Stati Uniti e quelle cose lì però è quel tipo di soggetto nella quale tipo dal punto di vista della militanza non sono d'accordo con quello che lui dice ma rispetto perché in questo versante non Chomsky è consistente ok ti può piacere o no questo si può discutere però lui è consistente lui è il tipo di persona che fa guarda io sono a favore del diritto di parola anche dei miei nemici io non sono completamente d'accordo di qualsiasi tipo di posizione ma io comprendo anche dal contesto dalla quale lui è uscito e lui ha una che ha subito anche delle censure verre durante tipo gli anni 80 in un certo modo comprendo ma non aderisco io comprendo perfettamente ma mi sembrano un modo di sono argomenti un pochino settecenteschi un pochino vecchi cioè non è che non vadano bene per carità però questo modo di trattare la libertà di parole è un modo vetusto cioè che ha a che fare con quegli odoromanti quegli evoluzionari non siamo in quelle condizioni e poi vabbè io penso che nel caso di Sonsky riguarda anche il fatto che lui è un pubblico intellettuale della quale preferisce non aderire come dire a una critica spiettata proprio contro i suoi di potere nella quale fare un attacco di questo genere potrebbe non essere produttivo sia per se stesso e anche per il dibattito pubblico però qui stiamo parlando più che altro di geriaopolitique o di pragmatica del linguaggio e va bene stiamo allungando questo podcast per un podcast su Don Sonsky sì che infatti posso andare avanti diciamo che questa lettera per quanto mi riguarda è una lettera che aspetta aspetta mi sono riscordato di dire gli altri tre e qui possiamo andare veloce uno è Rushid Rushid perché non sai scritto un libro chiamato i versi satanici il suo libro più famoso perché dei fan hanno bruciato i suoi libri hanno ucciso due dei traduttori dei suoi libri non mi ricordo in qual paese però in poche parole dei fanatici islamici hanno cercato di ucciderlo e nel caso di riuscire l'altra volta è un tipo di quelle situazioni alla quale io capisco del perché è una lettera del genere si becca una lettera del genere che è astratta non sai chi altro sta firmando e bene firme poi c'era la margaretta atwood che è una femminista per carità però tipo la critica che si rivolge solitamente lei è femminista ma è un po' del noto liberale capisce non è quel liberale di centro che voterebbe la Clinton però almeno non è quel tipo di liberale però va bene grandissima romanziera io non ho mai letto il suo romanzo più famoso ma ho letto un altro suo che è stato ripubblicato da poco tempo che è Venire a Gala anche lì autrice molto interessante e poi c'è il personaggio più curioso qui di questa letra che è la Rowling vabbè che siamo è se la Rowling tipo firma questa lettera un mese dopo in cui esce tutta la polemica con il fatto della sua transfobia in realtà per essere più preciso qua molta gente dalla quale si occupa di queste teorie qua mi ha detto guarda la sua posizione è un po' torta sono le femministe che non riconoscono l'indice transgender bla 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 e vabbè la cosa potrebbe riassumersi tipo guarda solo lei che non sa utilizzare il social network in questo caso twitter che è un buco nero di stronsata per questo tipo di cose ed è vero però poi ho letto la sua fanfiction tra virgolette su queste cose che l'ha scritto nel suo blog è maraviglioso del quanto sbagliato è vabbè intanto secondo me c'è un primo misunderstanding che fa capire un po' l'impianto cioè l'ambiguità della lettera è questa nel senso che i firmatari sono semplicemente persone famose cioè non sono lì in quanto intellettuali quello che gli accomuna è il fatto che sono famosi la Rowling non è un intellettuale non è neanche un artista la Rowling ha scritto dei di fantasy punto punto il che non la rende un artista non la rende poi per carità ha avuto un enorme successo commerciale la rende un'imprenditorizia del libro non so come ti voglio dire però Noam Chomsky è un accademico ci sono attivisti ci sono quello che vuoi ma quello che mette in sé i firmatari di questa lettera sono persone famose che dicono la posizione a me questo fa pensare quando tempo fa mi ricordo che su Italia 1 a un certo punto è successo questo sentiamo che cosa ci dicono i comici di Zeli il cui unica cosa che hanno è perché sono i comici di Zeli è lo stesso principio e il discorso cioè l'ambiguità di questi argomenti che poi è l'ambiguità che sta portando avanti tutto un mondo di contrari a un certo tipo di rimenticazioni a un certo tipo di attivismo a un certo tipo di fare politica è sempre quello di dico cose che il buon senso non può dire false cioè chi mai dirà di essere contro la libertà di parola ma non stiamo parlando di negare la libertà di parola stiamo parlando di cercare di capire cosa è successo perché siamo a questo punto cioè le radici storiche nel senso qui non si sta cioè il problema di questo argomentiere ci sono una mandina di valori che ha deciso di distruggere le statue ok l'argomento viene posto in questi termini no l'argomento di quella lettera non viene posto neanche in questo termine l'argomento di quella lettera no ma l'impianto cioè il motivo la radice per cui quella lettera viene scritta è perché si fa passare un sentimento totale per cui una lotta politica è una rivendicazione stupida sì questo è il tema bisogna andare a scavare il dispositivo che vuole rendere che vuole ridicolizzare gli argomenti io posso essere d'accordo o non d'accordo però quello che detesto è vedere come l'impiantistica che è proprio un impiantistico come un palco che viene costruito sull'argomento non è mai quello di andare nel merito delle questioni ma quello di parlare della deriva che è un modo di argomentare la verità legittima anche in filosofia cioè io porto le tue posizioni all'assurdo e ti dimostro che sono false perfetto ma qui si sta parlando di cose che fittano la vita cioè non è una discussione teorica non è un esperimento mentale esiste un mondo che sta rivendicando qualcosa che dice basta a qualcosa questo qualcosa come lo vogliamo chiamare sopruso boh marginalizzazione boh insomma colonialismo boh quello che vuole sì qualcuno sta dicendo basta a questo sì e lo sta dicendo oggi dopo secoli lo sta dicendo oggi dopo secoli in virtù del fatto che alcune rotte sono già state fatte e non sono servite non sono bastate sì sentirsi dire ancora una volta questa storia del fatto perché cioè praticamente allora portiamo all'assurdo la voce contraria cioè qui mi si sta dicendo che combattere contro quello che è il fascismo sia sbagliato se non si combatte succede che sia vero il suo contrario cioè il problema è perché bisogna combattere i fascismi perché se non li si combatte loro combattono te tipi ti uccidono ti mandano in prisione cioè e quindi mi sembra il suo cioè come dire non prendete le medicine perché uccidete i poveri virus ma di cosa stiamo parlando? e poi sempre tornando sul riguardo la problematica è stata come è stata organizzata la questione della letter che da quello che ha cercato da quello che ho letto del shit show che c'è stato è che in poche parole uno degli organizzatori mandava la lettera alla gente e diceva guarda facciamo questa bella lettera riguardo il diritto di parola sì ma io non ti ho detto chi altro c'è e il risultato nel fatto che da un lato tu hai un'altra volta per carità la Rowling la Margaret Atwood che in un impianto teoretico e anche pratico hanno delle posizioni ideologiche contrarie sì sì questo risulta che ad esempio tu hai Barry Wise che è una giornalista che era una giornalista del New York Times che ha fondato la sua carriera nel cercare di far licenziare la gente che la criticava o criticava Israele e se volete sapere di più andate a legere un bellissimo articolo pubblicato nell'Interceptor iscritto da Glenn Greenwald una persona che anche io ha dei problemi nelle sue posizioni politiche ma dalla quale rispetto come giornalista perché lui si ha preso diversi problemi nel difendere il diritto di parola nel cercare di indagare la verità laddove essa sia e quel che vedo in questa lettra è la maggior parte dei firmatari sono delle persone nella quale negli ultimi anni hanno la loro posizione messa in scacco o in altre parole questionata dal fatto che dicono certe stronzate e non vogliono avere a che fare con questo non vogliono avere a che fare con la responsabilità di affrontare l'altro un'altra delle persone che ha filmato quella lettera e per carità sto facendo proprio una selezione di alcuni dei nomi che ci sono lì perché ci sono 150 persone però io vedo Steven Pinker lì e Steven Pinker è una di quelle persone della quale io dico bel ok la tua teoria del linguaggio di base coincivista non sono d'accordo hai fatto delle cose carine però negli ultimi 10 anni non so per quale motivo tu vai in giro a dire che il mondo è un posto migliore tra virgolette e che non ci sono tante disparità sociali che tu stai negando che esistono dei dati da ricercatori e se vogliamo possiamo prendere che non so io un economista non un psicologo cognitivista del linguaggio che studia queste robe come pichetti che punta guarda la disparità nel mondo è innalzata negli ultimi 30 anni guarda caso con l'ascesa del neoliberalismo quindi quel che vedo è questo tipo di figura intellettuale che vuole la fama vuole il glamour ma non vuole la come dire responsabilità di avere a che fare con le idee di merda che ha eh già e un'altra volta io mi giro e dico questa gente ha idee di merda perché io torno in Steven Pinker che boh sembra a volte l'ultimo centrista che durante una conferenza sul diritto di parola fa ah ma il problema adesso è la cultura del politicamente corretto perché guarda caso io conosco della gente che ha stranamente dell'alt right vedo che è della gente che ha delle conoscenze vedo della gente che è intelligente però è dell'alt right secondo me loro vanno dall'alt right perché quando adentrano nel mondo accademico adentrano con delle idee dalla quale noi non tendiamo a contrappore oh qual era l'altro termine che diceva adesso non mi ricordo perché sono incassato con queste tipi di idee e questo tipo di posizione mi fa incassare perché tipo io mi ricordo e a questo punto forse l'unica persona che si ricorda che tipo sei mesi dopo Charlottesville era è cascato su internet un audio di Richard Spencer e perché non sa Richard Spencer è tra l'altro ancora uno dei principali disponenti dell'alt right e tipo c'era questo audio di lui che festeggiava il fatto che un attivista è stato investito e è stato ucciso da un cioè da un protestante di estrema destra questo tipo di posizione centrista del cazzo va battuta va combattuta e io sinceramente ho un disdegno per questo tipo di cose perché tipo io mi trovo in una posizione che si dice no ma dobbiamo ascoltare l'altro lato vabbè sei sicuro esatto il vero problema è questo ci sta portando avanti una politica dell'assurdo io mi fai bell guarda la tua posizione bell cioè va bene tu dire questo va benissimo per te ma io che mi trovo dall'altra parte qua vabbè l'unnetto uno stato se ne ha la merda certo ah ma dobbiamo ascoltare l'altro ah ma quale dialettica c'è nell'ascoltare l'altro scusi in questo caso stiamo partendo dal presupposto che infatti il discorso è che ci sono delle posizioni talmente assurde che non sono equiparabili non sono non ha non ha senso difenderle questo è il fatto sì no infatti è questo tipo di posizione che va battuta cioè se tu vuoi aderire che ne so io vuoi indagare del perché giovani stanno i giovani diventano in scena successivamente diventano che ne so io parte dell'out light no out out light sì o out right cioè se vuoi indagare su questo tipo di cosa va bene però arrivare a dire guarda secondo me è un problema del politicamente corretto io mi giro e dico ma figlio di puttana su quale base materiale stai dicendo wow no andiamo andiamo a ricorrere cosa agli archetipi unghiani Jordan Peterson no perché l'idea è quella di lasciare parlare cioè il problema è anche secondo me educativo nel senso che a un certo punto tu porti avanti è come se volessi dire no bisogna che queste o bisogna vietare che qualcosa non venga detto o bisogna dare voce anche alle posizioni più assurde anche io perché poi il problema è che non si capisce che quello di cui si sta discutendo è che c'è una franza che si lamenta del fatto che si voglia in qualche modo mettere un'argine alla violenza o alla radice di quello che è la violenza e lo sappiamo perché è già successo cioè qui non si sta parlando di qualcosa di nuovo di qualcosa di mai visto quello è il problema e l'assurdo è qualcosa di totalmente inconcepibile ah sì sì e poi cioè è qualcosa che praticamente ci sono persone che si lamentano del fatto che nei luoghi pubblici si voglia dare rispetto interpersonale oh yeah ci sta cioè dare rispetto interpersonale alla gente cioè dalla gente ma sì è la base cioè non so come succede in poche parole cioè se tu ti giri e ti dice guarda secondo me ti stai a lamentare un po' di troppo riguardo a questa cosa solitamente ti giri e dicono e dico ma sei un estremo di sinistra ma no sì non è bene cioè che ne so abbiamo già parlato offline riguardo a questo tipo questa gente ce l'ha anche ha dei problemi riguardo che ne so io alla questione della rappresentatività sì sì e tipo io non lo so io devo difendere tipo una cosa che è il minimo del minimo del minimo del liberalismo capisci non è una posizione non è una posizione che ne so io marxista no no cioè la questione della rappresentatività è il minimo e non va oltre del minimo non è che devo stare a dire guarda nella fine dei conti sono dei prodotti mediali per utilizzare un termine tecnico che aiutano bene o male a battere un pelino certi presiudizi certi stereotipi però mettere solamente che ne so io e c'è Cornel West che un mese fa quando parlava del Black Lives Matter diceva guarda questa posizione di mettere la gente nera al potere di mettere la gente nera nei film non funziona è il minimo è il minimo essenzialmente quello che vediamo è questa gente che per carità ha il culo parato se ha il culo parato non è un problema il problema è che tu devi venire a pato con la realtà e capire che c'è della gente che va per la strada che ne so io a militare per un motivo vero e se solitamente a volte in alcuni posti che ne so io tipo a Bologna finisce con i lacrimosi nelle manifestazioni c'è un perché e non è solamente dalla violenza della polizia se vogliamo andare tipo un'altra volta va discusso anche quello però nella fine dei conti quando la gente scende in strada per manifestare o per protestare è perché una massa di individui è insoddisfatta e se una massa di individui insoddisfatte va a protestare e non succede niente vuol dire che c'è un problema perché è un problema molto grave è un problema molto grave e sottolineo io non sono quello che stai dicendo guarda sono a favore della violenza no sto dicendo questo che la violenza che scatta delle proteste mette a nudo dei sintomi e che va dei ragazzi soprattutto di solito le proteste nascono per contrastare la violenza una violenza sistemica non è che questo è un po' uno dei temi che però sembra e poi esiste anche esiste sempre un problema di questa gente che tende al centro che è la purezza ideologica sì e loro fanno appello alla purezza ideologica del tipo guarda guarda la sinistra regressiva guarda la sinistra marxista come loro sono violenti ma noi il liberalismo non ha mai fatto niente di male giusto e io mi giro e mi dico ma figa di puttana what the fuck cioè prima di tutto se vuoi vuoi fare il puritano ideologico diventi anarchista almeno lì cioè puoi argomentare storicamente oh sì se vogliamo fare contare la pila dei morti guarda what the fuck quando si inizia a fare il conto dei morti io li divento manco e poi esiste anche l'altro problema della posizione di questa gente e l'istremo centrismo di questa gente è ah ma guarda Cuba guarda la Corea nel Nord oh ma guarda ma guarda l'antica Unione Sovietica il socialismo reale ha falito e io mi giro e dico ma figa di puttana stai parlando serio scusa fino agli anni 80 dietro la porta c'era il Cile che era una dittatura pro-capitalista che è quasi vicino all'anarco-capitalismo e non dici un cazzo la Corea del Nord no la Corea del Sud era una dittatura pro-capitalista fino agli anni 80 oh ma stiamo dobbiamo scordarci anche che non so io la Spagna fascista la Grecia fascista il Portogallo fascista che tra l'altro sono durati oltre la seconda guerra mondiale molto secondo il Portogallo cioè è questo tipo di posizione che mi sta sul cazzo perché è della gente che ha uno della miopia ideologica io chiamo questo miopia ideologica che loro riescono a vedere tipo che ne so io della gente dell'estremo destra come della gente oh ma questa gente è incompresa lasciamoli parlare certo e da un altro lato c'è questa mancanza di comprensione storica io sulla mancanza di comprensione ho sempre dei dubbi che lo siamo più d'oro che non in alcuni casi è solamente ideologia io direi caro mio di andare verso il nostro film sì ma prima proprio per fare la ponte ricordiamo i carabinieri di Piacenza e stoppiamo qui poi dopo passiamo immediatamente parliamo immediatamente del film ti dico solo carabinieri di Piacenza fine film possibile che dovete sempre fare tardi non lo sapete che a scuola si arriva puntuali eh a che vi passa per la testa vi piace essere portati a spasso come il presidente devo farvi anche da autista papà non è stata colpa nostra ah sì allora di chi è stata la colpa mia no zia Wendy ci ha detto di portare fuori l'immondizia e ha tenuto il bagno occupato tutta la mattina non siamo potuti entrare neanche per lavarci i denti e fare la pipì abbiamo dovuto aspettare che uscisse e quando abbiamo finito l'autobus se ne era già andato come facevamo ad arrivare in orario è l'unico modo per non fare tardi ora statemi a sentire sono io che comando non la zia Wendy quando avete bisogno di andare in bagno dovete dire a zia Wendy di andare a fare in culo fuori dal bagno ce l'avete o no le palle ha tenuto occupato il bagno chiamatemi la butta fuori io a calci tutta la responsabilità di dover vincere a tutti i costi ecco che il meccanismo si è inceppato la tranquillità è scomparsa tanto perderanno 4 a 0 no non perderanno vinceranno invece vinceranno ti ho detto ti ho detto che vinceranno andiamo smettete che ha immediatamente reso tutto ancora più difficile perché al condizionamento psicologico troveri li farà pensi ci sono volete smetterla allora mi fate venire il mal di testa ciao papà ciao ciao papà ciao papà stasera questa naturalmente è solo una previsione che tutti speriamo che venga sottentita dai fatti in modo da rendere più appassionante e di persone e di una sottentità ma lo ripetiamo qui non si tratta di girare in domenica si tratta solo di trarre le condizioni quando ha la riserva e la propria vita della situazione i Mets al momento per tutte le ragioni esposte e preferite sono indubbiamente una buona squadra che ha meritato di partecipare al playoff ma che non può certo aspirare alla vittoria di due questo rappresenta certo un duro colpo per tutti i suoi sostenitori io sono Sosa e alla mia sinistra abbiamo Mr. E buonasera e noi due siamo I Q2 al cinema bene Mr. E dopo il nostro rant di mezz'ora nella quale abbiamo spaventato metà dei nostri ascoltatori che sono di centro e abbiamo perso l'alternità si quelli che sono liberali ecerto oggi parleremo di cosa? ah oggi parleremo di un film fantastico presentato a Cannes un film degli anni 90 ovvero il cattivo tenente oh il cattivo tenente di Abel Fejara questo regista di discendenza italiana è cresciuto a New York se non sbaglio nel Bronx si e che ha avuto un grandissimo successo negli anni 90 un regista molto singolare da quei perché lui non sorge negli anni 90 sorge negli anni 80 si e lavora tuttora oggi io purtroppo non ho guardato i suoi lavori decenti lo conosco solamente dai suoi lavori degli anni 90 e tutti quei che ho visto mi piacciono si però qui andiamo alla mia solita domanda qual è stato il tuo primo contatto con Abelino Ferrara il mio primo contatto è stato per l'operio con il cattivo tenente perché il tema mi mi affascinava già da da tempo diciamo così quindi comunque cioè lo hai guardato adesso per la prima volta il cattivo tenente no 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 l'ho guardato molto molto tempo fa posso sapere anche dire quando ormai ed è stato il primo film io pericato ho conosciuto questo film più che cioè avendo guardato cattivo tenente dopo non mi ero puntato molto sul registro ma l'avevo preso così dopo di che ho iniziato un po' a risalire la cala la chiglina in qualche modo era capire un po' di un po' di cose insomma e a capire anche chi era chi era il regista però il mio primo contatto è stato proprio con un cattivo tenente a suo tempo diciamo ah ok quanti c'è ne abbiamo i fa ok io contrariamente a te il mio contatto con una bel ferrara è stato nella mia franciulessa tra i 5 e i 4 anni si questa è quella cosa che forse vuole dire tanto sulla mia persona si direi di si il mio primo contatto all'epoca in cui tra l'altro non sapevo chi era ancora lui il regista è stato quel suo remake dell'invasore degli ultracorpi ah quello l'ho visto anch'io ma dopo si si no io l'ho visto da piccolo e quel film cioè anche oggi mi fa salire un po' la pelle d'oca più per ultracorpi l'invasione continua si dovrebbe chiamare in italiano si per me tutti i film sono invasori di ultracorpi per me va benissimo così ah ok ok body snatchers body snatchers si si tra l'altro il secondo remake è favoloso che c'è nemo un giorno ne parleremo di questi film ma non oggi comunque io ho guardato quel film nell'infanzia e diciamo che quel film durante quasi fino alla mia adolescenza mi ha terrorizzato ci posso credere perché non c'è la trama di invasori di ultracorpi è c'è questa invasione aliena nella quale dei semi vengono posti di fianco al letto delle persone e mentre la persona dorme questi semi fanno crescere dei tentacoli che penetrano la loro pelle e succhiano tutta la forza vitale nel frattempo che la loro forza vitale viene succhiata il semi diventa tipo una sorta di casuno nel quale esce una coppia di tempo si è veramente cioè da piccolo fa l'impressione perché tu poi hai paura di andare a dormire ma molto io l'ho visto l'ho visto dopo il cattivo tenente ma io ero abbastanza giovane comunque il cattivo tenente l'ho visto presto è abbastanza inquietante devo dirti la verità è inquietante poi vabbè ho visto il regi New York ah The King of New York con Christopher Walker io l'ho visto tipo su Iris parecchio tempo fa tra l'altro hai visto The Addiction Vampiria New York figata figata quel film quello lì è il mio preferito di lui beh sì per carità nulla tolera il cattivo tenente però dei film che ho visto di lui quello lì è il suo migliore comunque Belferrara è questo regista qua che ha fatto questi film un po' come dire veramente di nicchia negli anni 90 sì e negli anni 2000 continua a fare film di nicchia ultimamente quest'anno tra l'altro ha fatto Siberia ha fatto Siberia l'anno scorso due anni fa ha fatto uscire un film chiamato Tommaso sì nel 2019 qualche anno fa ancora ha fatto un film su Pasolini tutti questi film con William Defoe tra l'altro è un po' il suo feticcio lui ha lui come quei registi new yorkesi ha un po' degli attori fetici quindi andiamo sul cattivo tenente andiamo sul cattivo tenente il nostro simpatico cattivo tenente il cattivo tenente è un film che può avere secondo me una chiave di lettura facile e una chiave di lettura meno facile qual è la chiave di lettura facile secondo te? la chiave di lettura facile secondo me fa la fotografia di una città in decadenza che è new york metaforizzata in questo uomo che che di fatto è un criminale vestito da da poliziotto un criminale senza nome io dico questo perché di fatto questo uomo non ha nome viene sempre suo chiamato il tenente o il babbo e quindi è un simbolo è un poliziotto brutale sì è un poliziotto corrotto è un uomo finito naturalmente sono in qualche modo le ultime giornate la conclusione tragica dell'epopea di un uomo da nulla la chiave di lettura più difficile la chiave di lettura più difficile è che in questo film si possano vedere diversi livelli diciamo diverse stratificazioni di un sistema di un concetto che è quello dell'inadeguatezza umana all'interno del sistema sociale borbillese cioè l'innaturalità di un sistema ti spinge a vivere uno stato di decadenza necessitante cioè che si fa necessario perché lui di fatto è un padre di famiglia benestante no? sì tutto sommato amato dalla madre no? che però è vittima dei propri è vittima della propria autoindulgenza in quelli che lui a un certo punto categorizza come peccati perché c'è anche un discorso di religiosità molto 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 marcato nel film e lui non è una persona a caso ma è appunto un tenente di polizia ok io dunque io penso che questo film qua è un po' difficile da articolare perché è il film in studio di un personaggio che è una rappresentazione di un potere la cosa che trovo interessante in questo studio di personaggio criminale portato avanti da Haver Cartel è che questo qua non è un personaggio che ad esempio troveremmo in un film di Martin Scorsese no perché vedi bisogna fare una distinzione tra questi due registi che uno influenza l'altro Abel Ferrara cioè il film è influenziato tra l'altro da Martin Scorsese si vede si certo Martin Scorsese da quel che so è un registro la quale convide questa visione religiosa la differenza sta nell'approccio dei due nella quale Martin Scorsese alla fine dei Conti è un moralista non dico questo in un cattivo senso sì e non sto facendo un paragone qualitativo tra i due lavori dei due ma sto cercando di delineare la differenza che c'è qui nel senso che il moralismo di Martin Scorsese si dà nel fatto che lui ci giudica dal come lui da come tu interpreti i suoi film nel senso che i suoi film più famosi Casino The Goodfell The Goodfellers Wolf of Wall Street adesso The Irishman sono dei film che in un primo momento dispongono un impianto di seduzione sì e sono dei film che ci seducono e fanno sembrare quella vita desiderabile desiderabile poi alla fine dei Conti i loro personaggi questi film qua cascono cadono in un certo momento a causa della loro bramosia sì io che ho una visione molto moralistica della questione quello che quello che fa il lavoro di Martin Scorsese giudicare i telespettatori è questo perché solitamente i suoi film sono visti come una glorificazione di un certo status maschile e una certa glorificazione della vita di quello che loro chiamano della mafia o di mob life sì questa è una lettura proprio come dire pianta dei lavori di Martin Scorsese e è un tipo di cioè è un tipo di di visione che vede tra l'altro criticata nella serie tv soprano nella quale vediamo questi mafiosi che sono mafiosi sono delle persone bruttali sono dei psicopatici che glorificano i film di Martin Scorsese e c'è un certo momento nella serie nella quale la serie lascia in chiaro che queste persone non hanno gli apparati adatti per criticare quel tipo di cose lì il film i film gangster di Abel Ferrara hanno un impianto completamente diverso nel senso che il film non ha la lente il film non cerca di sedursi no decisamente no non cerca di sedursi il film ha una qualità tipica degli anni 90 di colori mesosaturati di molta grana a causa probabilmente di una pellicola 16 mm con un'esposizione molto alta che è tipica degli anni 90 e io adoro anche a me piace molto fa sembrare tutto una roba televisiva si fa sembrare tutto una roba televisiva non riesco a capire qual è un film qual è una serie tv però è molto bello apro la parentesi sai qual è un altro film che mi dà questa sensazione si non so se hai visto di recente verlet bussal tipo mi sa che si chiama il nome del film no non l'ho visto quello che c'è su netflix mi sembra di quei film horror tipo degli anni 90 ambientati a los angeles che hanno queste caratteristiche queste estiche ma è un'estetica che vabbè adesso si fa con il digitale ma sta tornando insomma comunque è piacevole però comunque tornando qua cioè come stavo dicendo Abel Ferrara non vuole che tu senti della simpatia non vuole sedurti il film in diversi momenti ti mette proprio in delle situazioni che sono sconfortevoli si non sono neanche in barattina sono proprio sconfortanti cioè e penso che l'apce della scena sconfortante qua sono due ognuno in un grado diverso però la prima è la scena nella quale lui ferma due minorene lì e io mi ricordo di averci scritto tra l'altro questo film qua ti mette proprio in suggestione in diverse maniere è proprio è il momento nella quale tu ti senti proprio sconfortevole nel fatto che lui guarda stai mostrando questa persona qua è veramente non è un modello no e sin dal primo take nella quale lui cerca di educare e mi sa che i nipoti i fili e tipo vediamo che lui inizia con una lezione morale e Maramaru la sua moralità in scala tipo nella cosa più becera possibile sì anche perché di fatto è sempre strafatto sì c'è anche o c'è anche questo e poi esiste un'altra scena che trovo molto interessante che è di quando lui va a vedere l'esame medico della suora sì che lì c'è tutto un impianto voeristico sì e secondo me la scena un po' sconfortevole perché ti gioca col il fatto che è una suora e in quel momento ed è giovane l'attrice è molto bella ed è una suora che è stata scoprata cioè non è una suora normale sì e quindi lui ti gioca con queste cose qua proprio per dire guarda questo soggetto qua è una figura decadente e soprattutto non è 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 lo sbiro è il fallimento di un intero sistema perché lui non è il tizio di strada anche se poi lo fa lo vuole apparire ma lui è un uomo che ha perso sì poi il film lascia intendere che lui è di origine povere più o meno tipo però però comunque è uno che si è arricchito anche perché ha una bella casa ha dei bei mobili non so se io dico ah quel gigantesco divano in cui collassa sempre sì è un soggetto che ha avuto un'ascesa sociale sì e poi comunque sempre sull'elemento religioso del film esiste la scena in cui la suora viene violentata sì è che è fatta con tutta un'estetica tipica dei videoclip degli anni 90 è vero è vero e in un primo momento quando l'ho visto ho detto lui sta sognando questa roba perché la scena dopo è lui che si sveglia e invece no e invece no è una cosa che è successo nella realtà del film è vero che ha l'estetica del videoclip sì il film cioè la scena della chiesa la scena della chiesa sì tutte le scena in chiesa sì le scena in chiesa sono fatte in mani cioè le scena che sono in chiesa soltamente hanno quell'impianto in cui lui va tipo a pentirsi a confessarsi o ad ascoltare sono gli unici momenti del film nel quale secondo me o lui va a confessare o va ad ascoltare qualcosa o è sotto allucinazione o sotto allucinazione quando lui vede Gesù Barbone sì e comunque una cosa che il film lascia chiara è che ok lui non è un modello da seguire no per niente no ma tuttavia lui è solamente una persona che a causa dell'ambiente in cui si trova ovvero la New York tra fine anni 80 inizio anni 90 che nei centri urbani aveva dei problemi di violenza e tutto quanto che aveva un certo degrado sociale e basta ricordare che l'apso della rappresentazione di questo degrado sociale è Jason Va a New York no Jason Va a Manhattan scusa dalla quale viene rappresentato questa sorta di decadenza urbana è un soggetto che a causa di questa decadenza urbana è una sorta di anima persa e a molto tempo ha perso la comprensione di quello che è giusto e sbagliato e che comunque al di là di questo non è un sociopatta non è un personaggio un'altra volta no non è un personaggio di Marx in Scorsese che trae piacere nel trovarsi in una situazione di potere una persona che trae potere nell'edonismo no anzi è un ludopatico è un ludopatico però vediamo che il personaggio il personaggio di Harvey Cartel questo tenente si droghe continuamente e il classico personaggio io mi drogo perché è un buco esistenziale e non so fare altro non mi drogo non è chiaro essendo appunto un archetipo lui un simbolo lui ha un buco esistenziale e basta non c'è nessun motivo è così e basta è così e basta e il film la New York dipinta nel film è veramente beccera ma è una cosa anche normale dei film degli anni 90 del bel ferrara cioè Vampiria New York è così sì sì il re di New York è così tra l'altro anche e questo ti porta sempre a forse è questo è l'elemento che tra l'altro io trovo non critico del film ma dalla quale io non saprei come approcciare perché vedi lui fa un studio di un personaggio sì una figura del potere ma alla fine di quanzi cioè lui non è che evita ma non cerca di indagare i motivi sistemici del perché questa figura è diventata così e che per carità non tutti i registi devono far così certo per carità il film non si propone questo però in questa sorta di rappresentazione della figura della forza dell'ordine che si trova tra virgolette a fare delle cattive azioni e si pencisce è un po' secondo me non coerente con quel che io testimonio molte volte nella realtà nel senso che secondo me e qui prendo la vibe anarchista che è la genese degli sbirri della polizia è una genere fascista che cerca a tutti i suoi modi di proteggere le classi dominanti ok io più o meno trovo questa solitamente una critica anarchista dalla quale io aderisco molto tuttavia nel contesto dove mi trovo io vedo degli sbirri delle persone che tendono all'autoritarismo e tendono a non come dire non avere certe riflessioni impersonali cioè interpersonali no non interpersonali certe riflessioni come dire profonde riguardo al proprio essere ok ok però un'altra volta cioè non è la proposta del film non è quello cioè non è quello su cui punta bel ferrare in questo film no e forse l'unica critica che potrei muovere verso il film è questa cioè tu mi stai dipingendo questa figura del poliziotto che nella fine dei consi riesce a tra virgolette essere redimibile beh però posso contra-argomentare però il modo in cui lui si redimi alla fine dei consi è in quella del far avverare un desiderio dalla suora che è quella di perdonare i due ragazzi chiara un violentato lei e quindi la cosa che lui fa è io vi do i soldi stronzi vi picca morte e vi faccio prendere un autobus e così comunque lui segnala la sua morte perché quei soldi erano per pagare i suoi debiti e nella scena dopo lui viene ucciso dicendogli ecco la tua vincita non lo so io ti dico secondo me è un film leggibile nella dimensione in cui lui non è lui non è una persona è un simbolo è il simbolo di un sistema rotto che non ha più speranze cioè lui alla fine fa una scelta conscia di autodistruzione che porta cioè in qualche modo lui a un certo punto sa di redimersi solo tramite la morte cioè la cessazione di questo tipo di relazionalità diventa l'unica strada che trova in se stesso per farla finirci per uscire da un sistema in cui non serve più uscire da un sistema che cosa dire da un punto di vista magari invece più relativo alla tecnica cinematografica che sicuramente è un film che sa narrare questa storia cioè è un film che in cui la narrazione è potente più potente forse dei personaggi è un film fatto di immagini e di situazioni in cui appunto questi personaggi simbolici riescono a sembrare umani secondo me l'interesse di questo film è questo cioè che ci sono simboli che riescono a sembrare umani in cui il registro riesce a umanizzare al netto che non c'è nulla di non c'è non è ecco non credo sia valutabile come un film di personaggi credo sia valutabile come un film di immagini di situazioni di momenti perché di fatto sì la narrazione c'è è molto diciamo che esiste i punti principali della storia che vengono con essi attraverso dei mini episodi sì che vanno a fare un dipinto sì che faranno un dipinto diciamo che esiste il plot principale del film nella quale vediamo questa indagine qua sì e poi questi mini episodi che fanno mosaico di quel che è il personaggio sì e il mondo in cui si trova e in questi cioè diciamo che i mini episodi caratterizzano la decadenza non solo del personaggio ma di tutto New York sì e quindi di tutto l'occidente perché mi era di fatto il bastione della solità sì sì e cioè un esempio uno dei tanti esempi è quel mini episodi del film alla quale lui vai a cercarsi mi sa che era del crack giusto sì sì del crack c'è anche questo l'elenco di stupefacenti che lui si fa qualunque tutti tutti quelli del periodo tutti quelli in voga nel periodo cioè tutte le pieghe sociali in quel periodo vengono condensate in quest'uomo tra l'altro questo uomo poi c'è la scena in cui lui è nel bordello verso l'inizio no? sì che poi balla piangendo balla piangendo nudo balla piangendo nudo ed è un uomo in forma cioè c'è sempre questa doppia il punto è che è un è un rappresentante del benessere che vive una tragedia muta inspiegabile che non viene verbalizzata cioè lui è tragico perché non può non può far altro che essere tragico e potrebbe cioè però non parte da una base di tragedia questo questo è un po' l'assurdo che io noto insomma che per me ha dato maggior senso al film e tra l'altro qua la scena lì è anche la locandina del film e vabbè sempre un altro degli altri mini episodi che ci sono è che lui va due o tre volte nella casa di questa ragazza qua sì a farsi di eroina tipo sì cioè la casa dello spazzatore sì che la casa dello spazzatore tra l'altro l'attrice era una dipendente di eroina vera eh sì beh ma anche il protagonista non è che stesse proprio benissimo in quel periodo diciamo hai per caso teo? eh sì 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 era raccontami un po' lui ha girato il film in uno stato dichiarato di semi incoscienza cioè ha dichiarato più volte che lui sapeva la malapena di essere sul set e che quindi in parte ciò che si vede è vero diciamo che è vero è vero no ci sono dei momenti in cui io mi sono detto merda ma perché lui non ha vinto perché lui non ha vinto un Oscar con questo film? credo perché fosse un po' troppo documentario un po' poco film cioè era un po' troppo vero diciamo bene parliamo di Harveikaitè parliamone questo attore sottovalutato sì quest'attore che ha avuto più successo da vecchio quasi quest'attore che ha lavorato con i grandi del cinema sì è uno degli attori feticiosi di Martin Scorsese sì è un attore feticio di Abel Ferrara è un attore feticio di Quentin Tarantino sì ma è Mr. Wolf Mr. Wolf lui c'è le Iene lui fa Mr. White sì lui fa Mr. White poi vabbè lui fa sempre delle comparsa dei film di Tarantino tipo abbastanza esa gloria lui fa un cameo in cui c'è solo la voce ci ha lavorato con Robert Rodriguez del tramonto all'alba tra l'altro quest'anno qua gli anni 90 sono gli anni in cui lui ha lavorato tipo con Theong lo sguardo dell'Ulysses cioè non raramente vediamo un attore americano che fa io vado in Europa a fare un film con questo regista che è famoso per fare dei piani sequenza lunghi e film di cinque ore io ci vado solo perché Mastroiani nella sua tardetà ci ha lavorato con lui ah si ha fatto anche cose tipo Terme Luisa si si Terme Luisa di Ridley Scott giusto di Ridley Scott da parecchio che non lo guardo c'è in Sister Act lui c'è anche lui negli ultimi anni è diventato l'attore uno degli attenti attori fetici di Wes Anderson e solitamente quindi comunque lui è un attore proprio sottovalutatissimo che ha fatto un quintal di roba comunque sia ha lavorato tantissimo ha lavorato una quantità di film incredibile come si può definire un caratterista non lo so forse da giovane era più caratterista e da vecchio meno non saprei è il cattivo è un misterioso affascinante mallaggio lui da vecchio è meno caratteristico da vecchio sì perché da vecchio come ha detto lui ha fatto Mr. Wolf Mr. White due personaggi completamente diversi lui faceva il babo che vi davano alla famiglia di un camper nel deserto del New Mexico nel tramonto all'alba ha fatto un personaggio introspettivo di Teo Angelopoulos e quindi diciamo che il suo ha fatto il mistero dei templari di Nicholas Cage un giorno dobbiamo fare tipo la doppietta di Nicholas Cage ricordati sì io amo molto sono un grande fan di Nicholas Cage ma è impossibile non amare di Nicholas Cage anche nelle cose brutte è l'unico uomo che ha una vera barba che sembra una barba finita un vero capello che ha dei veri capelli che sembrano capelli finiti dei sottachi che sono dei veri sottachi però finiti sì è un uomo assurdo e ci piace io sono un mega fan guarda comunque Verkaltel cioè degli anni 90 secondo me era nel suo top sì decisamente purtroppo tipo ragazzi abbiamo questo grande attore tipo ehi dai datene un Oscar almeno per il cattivo tenente non gli hanno mai una nomination o qualcosa del genere però non è mai riuscito ad avere forse non lo so perché non è sicuramente un problema di di qualità attoriale forse è un problema di carriera nel senso ha fatto delle scelte non adeguate forse forse ha fatto una lui che abbia fatto una scelta di lavoro più che una scelta di autorialità anche dal punto di vista dell'attore cioè lui aveva dato un botto in qualunque tipo di film ma mai evidentemente in in ruoli che gli hanno garantito questo è invecchiato in fretta perché è uno di quegli uomini che sembrava un po' già vecchio da giovane non è tipo William Defoe sì o anche o anche Anthony Hopkins cioè che era vecchio già da giovane sì sì se ci pensi cioè sono quei tipi di attori che Clark Gable non vanno niente Clark Gable era vecchio cioè Clark Gable è morto a 45 anni e poteva averne e ne ha sempre avuti 50 per quanto mi vuole sì è vero sì così ma sicuramente è un attore di spessore che cosa si può dire che lo abbia fatto anche il lenzuolo viola sì oddio di Nicholas Rugg è un attore è un attore che secondo me veramente gli daranno un Oscar postumo secondo me o alla carriera un anno prima della morte o qualcosa del genere ah sì no lui se lo merita però vedi negli ultimi anni non mi ricordo quale grande roba lui abbia fatto The Irishman sì no The Irishman però tipo come dire perché era Femzei Marz in Scorsese andava a guardare The Irishman perché oh Zou Pesci Harvey Kaltel De Niro assieme dopo tanti anni la ciurma si è riunita sì e poi tipo c'era il pubblico mainstream che andava a vedere perché era quel film di tre ore con Al Pazzino e De Niro diretto da Marcin Scorsese che c'è su Netflix ah sì esatto ho fatto Gran Buda per Stotel però sì no lui cioè con Wes Anderson lui lavora cioè lui ha fatto anche l'ultimo sì di Wes Anderson però comunque cioè lui non è che come dire quando esce un film di Wes Anderson la gente va a guardare un film di Wes Anderson molto perché è un film di Wes Anderson sì non perché c'è lui ma lui è una una specie di anti star sì sì non è un uomo incredibilmente palestrato non è bello non è brutto nel cattivo tenente porca boia beh ma lui è il tipico americano vitaminizzato lui è grosso è grosso non è brutto come William Dafoe sì no ma anche come si chiamava quello che faceva l'indicatore della notte Charles Bronson perché Charles Bronson era grosso uguale ma ancora più brutto no è una via di mezzo ecco fra Charles Bronson e chi e Jeremy Irons Jamie Irons però Jamie Irons cioè dai ancora da me che figo infatti lui è una via di mezzo fra Jeremy Irons e Charles Bronson ok ok capito 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 non è orribile ma non è sì ok comunque adesso torniamo al film sì poi parliamo un po' da una cosa che abbiamo accenato all'inizio che è quali sono le come dire le scelte estetica del regista quale strategia lui mette in atto per fare questi studi di questo personaggio ma sicuramente c'è il discorso dei colori che hanno quella lieve desaturazione tipica appunto del periodo no sono saturati cioè il blu è molto saturato e il roso molto saturato che è una cosa il verde invece è desaturato sì sì che è una cosa tipica degli anni 90 ma proprio dei film brutti degli anni 90 sì dei film tv dei film tv e qui per carità non sto dicendo che il tuo film è brutto per questo è una scelta deliberata sì è una scelta bellissima in questo caso il movimento di macchina richiama molto lo stato di confusione mentale e spirituale del protagonista sì è sempre molte volte lui prende utilizza quella che è la handcam tipo la camera senza il cavaletto tipo perché ti fanno vedere ti fanno stare in situazione sì sì si rispecchiano un po' appunto il suo stato d'animo che non è mai stabile e nei momenti in cui è stabile solitamente da quel che mi ricordo o sono le riprese in cui vengono fatti dall'alto verso il basso come quando lui va in chiesa sì o sono appunto nei momenti in cui lui è dentro la chiesa e va a sentire la confessione di qualcuno altrimenti ci sono in quei momenti nella quale stiamo vedendo lui compiere un cattivo atto tipo quando lui va comprarsi del crack vediamo quella camera un po' un mese lontano tipo un piano americano o quando lui va nel negocio in cui c'è lo sbiro chi ha beccato questi due ragazzini due rapinatori le gazzini sì sì e poi lui rapina i ragazzini lui rapina i rapinatori chi rapina i rapinatori il film è la domanda perché certo perché deve pagarsi le scommesse in quel caso non la droga perché la droga la ruba ma si deve pagare le scommesse sì quindi il film utilizza molto queste posizioni qua e nei momenti in cui lui è sempre alla ricerca di qualcosa molte volte la camera prende qua la semisoggettiva che solitamente la camera un po' dietro le spalle e una scena nella quale mi viene in mente è quando lui va nell'ospedale nella quale c'è un brano rap che utilizza come sample che è Kashmir dei Led Zeppelin sì tra l'altro esiste anche l'utilizzo deliberato della colonna sonora che interviene in momenti un po' a caso del film che non sono un po' a caso ma che sottolineano anche quell'area decadente dalla città oh sì o quando è interessante quando la colonna sonora fa parte della situazione come quando va nel discoteco sì sì che la colonna sonora si dice diegetica diegetica sì diegetica ecco sì la musica in questo film ha una grossa importanza perché di fatto viene dato conto di uno stile di uno stile musicale di uno stile che richiama poi quel tipo di mondo perché in qualche modo viene rappresentato effettivamente un mondo e degli strati sociali che sono importanti da un punto di vista numerico cioè si va a dare conto di un dei simboli di un immaginario in qualche modo anche delle culture urbane eccetera ma viste in una chiave completamente negativa forse più onesta cioè nel senso dobbiamo anche ragionare su questo sì in qualche modo è un film antimitologico in un certo modo sì in un certo modo sì esiste un discorso molto molto interessante che secondo me può cambiare a secondo tale sguardo che cioè il film mette in luce la decadenza che c'è che a cui c'è altri strati sociali vengono messi perché e qui può darsi che sia tipo il film può essere sottomesso a una lettura per i tempi d'oggi come dire attraverso le lenze della persona attraverso solitamente quei giornalisti che vedono polemiche ovunque come un film problematico però al mio vedere quello che Abel Ferrara mette in luce è questo guarda e ci sono degli strazi sociali all'interno di questo inferno che si chiamano New York e che a partire dal fatto che sono sottoposti a questa sorta di degrado a una mancanza di prospettiva di vita alla cultura della droga e tutto quanto sono più propensi a cascare in questo tipo di cosa tanto è che cioè i luoghi dove avvengono la maggior parte delle situazioni di violenza sono anche i luoghi laddove ci sono delle minoranze ma certo ovviamente ovviamente l'unico è lui cioè lui è una specie di sintomo di non so di di controaltare sì sì cioè possiamo osservare che paradossalmente lui pur essendo una figura che anche sottoposta a tutto questo degrado è in vantaggio rispetto a tutti gli altri con cui ha che fare ma certo ma certo il Callerrand è cioè da un certo punto di vista più tragico più stupido sì perché lui si è immerso in un degrado che di base poteva non appartenere sì quindi tipo un esempio di questo sempre quando lui va a comprare la droga il crack e tipo il suo se non sbaglio il passatore è latino è certo sì sì quando c'è la scena in cui lui rapina i rapinatori prima di tutto il proprietario del negozio è un asiatico sì e i rapinatori sono neri e vediamo lì che ok esiste tutta una questione delle della dalla cosmopoli che è New York nella fine degli anni 80 inizio anni 90 nella quale ci sono questi strazi sociali che si trovano in difficoltà a causa a causa del fatto che il centro urbano si è svuotato a causa anche di processi economici ricordiamo che a partire dagli anni 60 in poi nascono i suburbs e il cetomesio delle grandi metropoli si spostano dal centro verso tra virgolette le periferie della città oh sì e in questo caso vediamo che queste minoranze qua sono in questa fase in questo luogo qua che è decadente e non è che hanno altra scelta non è che possono dire oh io vado e esco da qui perché posso no perché non hanno una prospettiva di vita no non nulla ma quello il grande tema forse non del film ma il tema anche del dibattito a quadri con il di cui parlavamo prima è questo cioè l'assenza di prospettive ecco forse in effetti stiamo assistendo a un cambio di parodino questo è molto interessante e tragico qualche tempo cioè una volta l'espressione di questa assenza di prospettive era quella quella roba lì adesso quel nichilismo pervasivo tipico degli anni 90 adesso c'è l'outright l'outright tipo beh in qualche modo sì l'outright sì si risponde è difficile parlare dell'outright comunque cioè possiamo prendere l'outright e anche gli incels più o meno non sono la stessa cosa tecnicamente non lo sono normale però vediamo che sono dei sintomi di problemi sistemici e tornando al prologo di questa puntata cioè e qui andiamo anche un po' fuori dal tema del film questa manifestazione di questa sorta di reazionalismo si dà perché e questo è il vero il marxista di turno e tendo a sottolineare che non lo sono che a causa delle condizioni materiali di diversi cezi sociali a causa della loro chiamano disenfranchising non so come tradurre in italiano questo a causa della perda del potere socio-economico di una sorta di un ceto medio degli Stati Uniti perché tra l'altro l'outright è un fenomeno americano altrove esiste anche in Europa ma come nicchie microscopiche se parliamo della destra possiamo parlare della nuova destra però la nuova destra nell'America del Sud non corrisponde esattamente con quella ad esempio del bolsonarismo in Brasile anche se ha aiutato a partorire il bambino fascista che lo è non è la stessa nuova destra che c'è in Francia che ah già ah ah e non è la stessa destra il centro-destra che esiste qui in Italia perché lì c'è tutto un altro discorso riguardo alle storie degli Stati Uniti comunque quello che sto cercando di dire in fondo è questo cioè la risposta cioè in fondo vediamo della gente che a cui è stata promessa un mondo e cerchiamo di sottolineare il discorso fino al 2008 sul quale siamo cresciuti che è il discorso neoliberale è tu sei padrone di te stesso tu puoi investire perché il mondo è tuo è tuo e sarà sempre più puro lo dico ridendo perché no è perché non lo so non so neanche spiegare che cosa posso dirti è qualcosa di completamente assurdo sì ma la verità è noi siamo cresciuti cioè io vengo dal terzo mondo e parte del discorso su cui io sono cresciuto è questo cioè e prima e prima che qualcuno mi arrivi dico tu stai dicendo delle cose contro senso guarda figlio di puttana io studio semiotica e capisco più dei mezzi di tu ok bitch io ho letto Budilliat tu cosa hai letto nella tua vita Jordan Peterson questo è una cosa che è un differimento puramente casuale ti voglio bene se mi stai ascoltando ti voglio bene beh può essere che no io non cioè io mi riferisco a un paio di persone non una no certo ma cioè lascio chiaro anche questo prima che qualcuno che mi conosca si senta preso in mira io non mi riferisco a te individualmente mi riferisco a a a un collettivo di persone ma guarda il eh sì allora c'è il discorso che il fatto che questo tipo di discorsi sia presente nel terzo mondo è comprensibile e assurdo a un tempo il fatto che questo tipo di discorso non sia più valido neanche nel primo di mondo è una diciamo triste perché perché arrica tristezza verità però di fatto è è la fine di un sistema che è durato quel poco che poteva durare c'è stata una generazione che ha costruito tutto questo ne ha l'ha sfruttata al massimo e poi se ne è fregata la generazione dei peggiori lo diamo sì e torniamo e così possiamo tornare sul film perché sì questo discorso del tu sei imprenditore di te stesso tu il mondo è tuo in un certo senso è il discorso dal quale può darsi che il personaggio Harvey Kaltel abbia cascato perché lui si comporta come se il mondo fosse il suo sì ha creduto all'illusione di delle possibilità dell'impunibilità dell'impunibilità però vediamo che io aderisco proprio a un discorso un po' in piano psicoanalitico stampo e strutturalista che alla fine dei conti i nostri desideri non sono nostri no sono proprio desideri dell'altro del grande altro desideri del quale dobbiamo rispondere nel contesto nel contesto in quale cresciamo in un certo modo e attraverso un impianto psicoanalitico e secondo me è forse una delle cose sulla quale io indubbiamente sono d'accordo con il nostro carissimo amico Jacques Lacan è by default al tizek è che alla fine dei conti quello che dobbiamo fare è non cedere il nostro desiderio perché alla fine dei conti raramente il nostro desiderio è nostro e soprattutto è un po' la vecchia modalità dell'attento che i cosi desideri perché potrebbe avverarsi potrebbe avverarsi e quello che succede è appunto diventare come il tenente in qualche modo la forza è un'estremizzazione ma sicuramente ecco una domanda che forse può essere un po' conclusiva secondo te oggi a livello di autocoscienza del proprio universo pulsionare quindi del desiderio a che punto siamo secondo me c'era stato un momento in cui c'era maggiore coscienza di questo e poi poi si è un po' richiusa lo sfintero e siamo tornati all'incoscienza dunque devo articolare parecchia roba in questo momento e secondo me quello che dici è vero fino a quando parliamo di un contesto intellettuale per essere più preciso intorno all'Europa ok mentre qui in Europa si discuteva ad esempio in Francia riguardo il desiderio le pulsioni queste cose negli Stati Uniti al mio vedere ovviamente io parlo dal dilettante se c'è qualcuno che ne sa di mio più di me riguarda questo tipo di tematica per favore puoi puntare l'errore perché devo ammettere la mia come dire devo ammettere quello che è la mia opinione senza aver come dire aver fatto della ricerca perché sto andare un po' fuori alla mia area di studio però il mio vedere negli Stati Uniti c'era un discorso completamente contrario ovvero possiamo arrivare anche a questo film è una cosa secondo me della quale abbiamo parlato qualche puntata fa e il discorso che veniva negli Stati Uniti era quello della liberazione totale delle pulsioni sì il movimento ilpico il movimento New Age tutte quelle pugnette lì è il contesto della liberazione sessuale e che per certi versi è molto buona per certi versi è una sorta di discorso che è stata quotata all'interno delle dinamiche del tardo capitalismo che a partire dagli anni 80 un'altra volta questa è una mia opinione può dare se che mi sbagli e che a partire dagli anni 80 vediamo che questo argomento diventa parte fondamentale dell'ideologia dominante ovvero cioè il discorso che c'è dagli anni 80 fin qua forse negli ultimi anni non tanto però è sempre il discorso del tipo oltre del ci imprenditore di te stesso il mondo è per te la terza parte di questo discorso è tu devi godere nel compiere qualsiasi sezione tu devi godere nell'andare nel tuo lavoro tu devi godere nell'andare in palestra tu devi godere in o in qualsiasi situazione sì parte di questo discorso di questa mancanza di mettere a scacco le pulsioni e il desiderio si dà anche attraverso in parte al disuso o al cadimento dello strutturalismo come approccio dominante non che non ci sia stato però cerchiamo di ricordare che dagli anni 80 in poi ma per essere più accentuato negli anni 90 esiste un discorso prettamente tecnocratico nella quale da un lato è così guarda tu non puoi dire qualsiasi stronsata perché io sono un tecnico in questo ambito il che per carità è giusto in certi versi però qui casiamo e dobbiamo citare i personaggi che abbiamo citato all'inizio della puntata come dell'agente che ha del capitale sociale e simbolico abbastanza a causa della posizione del sapere tecnico che ha in un ambito di uscire dal suo ambito e andare a dire delle minchiate e io sto parlando un'altra volta di Steven Pinker e by default tutte le intellectual dork web io dico dork non dark perché qua la gente non è intellettuale vero dork 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 e per carità a me non a me non mi piace sembrare va bene che la gente ormai mi associa a Zizek però io devo dare credito a questa critica portata da Zizek da Richard Wolff da Nonschonsky durante tutti gli anni 90 questa gente che porta una sorta di sapere razionale tecnico è della gente che in fondo è comunque ideologica ricordiamo la famosa frase tu non sei immune all'ideologia no naturalmente e negli anni 90 si dominano questi due modi di ideologia dominante uno tu devi essere un expert tu devi avere l'expertise nella tua area e questo ti conferisce del potere sociale e però tu devi godere certo e qui ritorniamo anche al film secondo me il personaggio di Harvey Keitel è un personaggio che ha interiorizzato questo discorso fino al fondo perché in fondo il discorso del tu devi godere non importa come o quando come si traduce nel suo edonismo spinto si fondamentalmente di base io di solito do più un afflato tragico ma effettivamente lui è un edonista spinto effettivamente cioè di base non è che ha cioè la sua tragedia è data anche dall'edonismo ma è data principalmente da quella di fatto è principalmente un paraculo se bisogna proprio dire è un paraculo perché di fatto è l'unico bianco che si mescola in un mondo non bianco in cui spada donizia in vittura il distintivo che lo protegge e l'unica cosa che fa è proteggere se stesso per continuare a indugnare in uno stato di decadimento che può portare alla morte e nel frattempo cerca di portare i suoi compagni di lavori che tra l'altro non sono tanto migliori di lui no però vediamo sono i suoi sottoposti non sono compagni di lavori sono i suoi sottoposti no no ci sono altri beh no no lui è ma il tenente è sopra le tette è due gradi sopra è due gradi sopra nella polizia americana tieni conto che c'è il capo della polizia che è elettivo in qualche modo il capitano il tenente il detective il sergente e il detective quindi insomma ok no no lui è il superiore lui è uno dei capi anche se gli hanno dato questa visione del tenente che ho che anche lui non tenne niente però è un dirigente per la polizia non è un detective mi ha ricordato adesso mi è venuto in mente una cosa hai visto The Wire? si i personaggi di Caltech sembra la base per i personaggi di McKnight si 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 ma probabilmente in qualche modo possiamo dire che ci siano dei dei richiami dei richiami certo cioè non saprei dire perché David Simmons è un sociologo di base però mi è venuto in mente in questo momento che il personaggio di Caltech c'è sombra a McKnight proprio in diversi aspetti edonismo espinto comportamento autodestruttivo a go go bene Mr. E abbiamo parlato abbastanza di questo grandissimo film si e adesso arriviamo al dunque nella quale io sento il tuo vuoto scusa voto voto riguardo a questo film oh sì ma questo film io credo sia oggi farò un voto un po' più simile a quelli che dai tu cioè non numerico questo è un film sicuramente da vedere per ciò che riguarda la tecnica cinematografica la tecnica logistica la tecnica attoriale ed è un film sicuramente da vedere anche per i temi perché parla di un mondo che forse non è più così parla di un immaginario cioè è un come dicevo tempo fa per lì te lo dessano è un film che parla esattamente di alcune cose come stanno senza mitologia senza ritorica senza volerle rendere affascinanti brutte per so che sono per come sono corribili tremende tragiche quindi è un film da vedere totalmente assolutamente con un grande regista di un grande regista e con un grandissimo protagonista figata figata decisamente dunque il mio voto per questo film è hai presente quando vai a far serata con gli amici sì e c'è sempre col tuo amico che si sfascia sì però non sai per quale motivo tu percepisce che andrai merda sì e finisce a volte in situazioni imbarassanti sì e è quel tipo di situazione nella quale tu fai io sto vedendo dove sta andando questa cosa sì ma non faccio niente perché è al di fuori del mio controllo o perché farà molto ridere o perché farà molto ridere sì io di solito sono il tipico amico che si mette nei guai quindi questa situazione la conosco dall'altro punto ma sì in realtà io sono quello che solitamente prima di che facciano qualsiasi cosa sono quello che dice andrà male andrà molto andrà molto male e la gente mi fa no sei pessimista non è così io mi dirico stessa storia altri attori decisamente e poi la stessa finisce male io arrivo e dico te l'avevo detto è quello perché sei tu che ami fare questa cosa ma eh vabbè comunque questo film è più o meno quel tipo di situazione lì e non c'è te l'avevo detto è solamente quella situazione alla quale tu dici avrei potuto fare qualcosa e mi sento imbarasso nel guardare la situazione che va puttana c'è del cringe c'è del cringe ecco è il cringe c'è del cringe lì oh sì sì in alcuni momenti sì ok mister abbiamo già dato il voto per questo film prima di andare alle nostre raccomandazioni quali sono i due prossimi film di cui parleremo parleremo prima di tutto il tema della mitologizzazione del genio io porterò Martin Lieben e tu porterai The Social Network oh sì due film veramente interessanti sì io sono curioso da sapere il tuo parere di Martin perché so che tu sei un fan accanito di Jack London sì sì ne parlerò durante la puntata e io sono curioso di sapere cosa di The Social Network perché sicuramente è un film importante ed è un film insomma è anche una biografia quindi c'è tanto 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 di più vedremo vedremo detto questo arriviamo alle nostre raccomandazioni che cosa vuoi raccomandare al nostro pubblico quest'oggi Mr. Souls io ho tre raccomandazioni che servono per una sì io voglio raccomandare la trilogia o forse tra un po' quadrilogia informale di Wong Kar Wai grandissimo regista cinese è uno del quale io ho iniziato solamente adesso a approfondire la filmografia e stranamente uno dei suoi film è uno dei miei film preferiti tra l'altro ma non sono mai andato a vedere i suoi altri film e comunque io voglio raccomandare tre film che sono parte di una trilogia il primo è Days of Being Wild che è tipo uno dei primi film di Wong Kar Wai il secondo è In the Mood for Love che è favoloso un giorno vorrei parlarvi di questo film sì lo faremo e per l'ultimo film della trilogia è 2046 sono dei film diretti in maniera magnifica non durano tanto durano circa due ore ognuno sì però sono film meditativi quindi va tenuto questo in considerazione infatti non sono così snelli tu invece mister i scusa io mi scappa da riva io mi raccomando fortemente fortissimamente sempre più fortemente invece di tenersi informati sembra una cazzata ma non lo è perché però tenersi informati come esatto e questo è il punto con coscienza scienza e coscienza di ciò che si sta facendo cioè non ho intenzione di consigliare qualcosa da leggere o meno ma ho intenzione di consigliare un metodo con tutta la sorprendenza che questo comporta fate maggiore attenzione a ciò che viene detto perché perché io ho intorno a me tante persone che vedo e conosco che per qualche misterioso motivo e niente stanno si stanno rincoglionando contamente leggete le fonti cioè mi sento di dire solo questo perché adesso non faccio fatica a fare dei riferimenti espliciti ma leggete le fonti leggete le fonti fate una bibliografia primaria e secondaria e cercate di capire e non di auto verificare ciò che ritenete giusto per vostra inconscia paura e con questo io vi dico personalmente buona auto e io aggiungo ragazzi quando leggete un libro che c'è una bibliografia c'è un perché c'è la bibliografia esatto andate a leggere ho intanto eccitazioni guardiamola infatti non è non è pedancismo no non è pedancismo accademico è una cosa che a volte va fatto se possibile un giorno vi racconterò di come questo può risultare delle cose molto belle dunque ragazzi ci lasciamo con una canzone quale canzone non ne ho idea te la lascio ok sceglierò io e ragazzi vi ricordo che si chiamate le sbirri non chiamate quelle di Piacenza no mai mai perché altrimenti vi trovate nei miei guai soprattutto se non siete bianchi ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.